Ben ritrovati da Piazza Affari, siamo all'evento di Benpeparibas sui portafogli evoluti e i certificati di investimento. Siamo in compagnia di Andrea Valenti di Alfa SCF, benvenuti. Buongiorno, grazie. Ecco la domanda che volevamo farti, appunto, quali sono le caratteristiche più interessanti che offrono i certificati di investimento? Oggi penso sia stata una bella giornata e siamo riusciti a vedere diverse tipologie di certificati perché molto spesso, tra di noi anche, parliamo dei certificati come se fossero un monoblocco, cioè un singolo grande strumento. In realtà i certificati sono davvero un mondo molto vario, vanno dal capitale protetto, oggi abbiamo visto i credit linked, ci sono tracker, ci sono certificati a leva. Se noi cominciamo a suddividere, almeno nelle loro macro categorie, i certificati, diventa sicuramente più facile capire le loro occasioni d'uso. Alcuni si avvicineranno sempre di più al mondo dell'obbligazionario, altri tenderanno a essere sempre più simili all'equity. E quindi, dal mio punto di vista, le occasioni d'uso per i certificati sono davvero innumerevoli. Se dovessi, diciamo, riassumerne le più comuni, sono l'esigenza di generare flussi di cassa periodici. E questa è una cosa che all'investitore italiano piace molto e notiamo che sui patrimoni, anche e soprattutto quando diventano più grandi, la volontà e l'esigenza di mettere a reddito una parte del patrimonio è molto sentita. Un'altra occasione d'uso è quella della sostituzione dell'equity, quindi mercati come quelli di oggi, in cui abbiamo avuto una corsa del mondo azionario molto veloce, di cui non sappiamo chiaramente se avrà un termine a breve o no. Potere e molti clienti piace l'idea di consolidare una parte degli utili, lasciando ampio spazio al mercato eventualmente di flettere, ma avendo comunque un ritorno positivo. E ti direi che l'ultima è proprio classicamente italiana, cioè il fatto che il trattamento fiscale dei certificati in Italia è molto vantaggioso. Sono considerati redditi diversi, permettono quindi di compensare i minusvalenze o fare operazioni di roll out di minusvalenze in scadenza. Perfetto, molto chiaro. Grazie per essere stato con noi e l'analisi che ci hai fornito. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.